Salve a tutti gente, ben ritrovati sul mio nuovo video. Oggi vi voglio parlare del mio gruppo, dove andiamo a fare tutte le esplorazioni sui luoghi abbandonati. Vi ringrazio tantissimo quelli che mi accompagnano perché veramente sono fantastici, mi sostengono sempre. Ovviamente nel mio gruppo siamo sei. Il primo sono io, che sono il capogruppo perché sono il più grande, anche ho 33 anni. Lo dico, lo dico, ho 33 anni, mentre cammino per i 23 anni. Poi c'è Andrea, che ha 30 anni e siamo gli unici che devono essere un po' più grandetti rispetto agli altri. Poi c'è, se non sbaglio, Carmelo, che è stato veramente lui che mi ha sostenuto tantissimo nei luoghi abbandonati. Lui oggi ha, se non sbaglio, 24 anni, 24 Carmelo. Poi ogni tanto mi viene anche con me Riccardo, che ha pure la stessa età di Carmelo, 23 anni. Poi mi porto a Matteo, 24 anni, anche lui. E poi mi porto anche a Giuseppe, che è stato l'ultimo che è entrato nel mio gruppo. Quando loro sono disponibili vengono sempre con me. Poi voglio anche ringraziare, che mi sta supportando sul mio canale a Giuseppe. Ovviamente non Giuseppe quello che fa parte del gruppo, ma un altro amico mio che si chiama Giuseppe. Lui ha 40 anni. Che mi ha veramente supportato tantissimo. Dal 2007, quando mi ha fatto conoscere Premiere e CS3. Perché uso questo per fare i montaggi. E mi ha fatto veramente conoscere questo mondo. Lo conosco da tantissimi anni, da 16 anni se non mi sbaglio. Proprio precisamente, quel periodo, 16 anni fa. Mi ricordo anche che mi ha fatto conoscere tantissimo, a parte Premiere, After Effects e altri programmi per fare i montaggi. Mi ha supportato veramente come un amico e soprattutto anche a livello morale. Lo ringrazio tantissimo. Non smetto mai di ringraziarlo. Poi, voglio anche ringraziare sempre lui, che mi ha fatto quel famoso intro. Vicky Roy, lui, gli abbandonati. Che ha usato il 3D Studio Max. Mentre la voce, che dice proprio la parola, è un conoscente di Gorizia. Di vecchia Gorizia. Il mio obiettivo è sempre di andare a fare le esplorazioni sui abbandonati. Perché veramente, ragazzi, a volte viaggio tantissimo. Perché non vado a visitare una struttura, ma mi localizzo a altre strutture sempre vicine. Io voglio ringraziare tantissimo tutte le persone che mi sostengono. Soprattutto tutti i miei iscritti. Grazie veramente di cuore. Vi mando un bacio da parte mia. Grazie. Noi, casomai, ci sentiamo nelle prossime esplorazioni sui abbandonati. Un apprezzo e grazie. Grazie, grazie.